Buonasera, grazie a voi di essere qui, ma naturalmente grazie subito alla famiglia di Giulio Reggeni che ha voluto partecipare a questa iniziativa nella quale presenteremo alcune ricerche, connetteremo la vicenda di Giulio Reggeni e la battaglia per la verità e la giustizia con un premio di cui tra qualche secondo parlerò, ma naturalmente devo dire a nome mio, degli organizzatori del Salone dell'Associazione Premio Morione che questa iniziativa nasce anche come un ennesimo gesto di affetto, di solidarietà con Paola e Claudio, di vicinanza con loro, di sostegno a loro e di perseveranza nella battaglia per la verità e la giustizia per Giulio Reggeni, quindi inizio ringraziandoli davvero per essere venuti qui con noi. Questo evento è organizzato dall'Associazione Amici di Roberto Morione insieme al Salone Internazionale Libro di Torino, il direttore Nicola Gioia voleva essere qui, probabilmente ci raggiungerà, forse avrà tempo per un saluto, ma insomma rappresento anche il suo saluto, la sua presenza, la sua riconoscenza per la vostra presenza qui, nasce per tenere aperta la battaglia per la verità e la giustizia per Giulio Reggeni, nasce anche dalla sensazione, dall'impressione che delle cose spaventose che la vicenda di Giulio Reggeni ci ha mostrato, ce n'è anche una preziosa, preziosa per tutti noi che lavoriamo nel campo della comunicazione e quindi per tutti noi che come agenti della comunicazione o soggetti o obiettivi o lettori siamo nel mondo della cultura, dell'editoria, dell'informazione coinvolti, cioè che figure come quella di Giulio Reggeni sono dei preziosissimi raccontatori del mondo, che quando Giulio è scomparso abbiamo scoperto quante cose aveva scritto il nostro piccolo, cioè nel caso di Radio 3 abbiamo deciso di ricordarlo per molte settimane, leggendo ogni settimana un frammento delle tante cose che Giulio aveva accumulato nei suoi studi, nei suoi viaggi, nella sua ricerca, tramite lui abbiamo scoperto quanto è prezioso questo sguardo, quanto è prezioso lo sguardo dei nostri ragazzi che sono in giro per il mondo, quanto è importante la loro vita e quanto non può essere così fragilmente distrutta, ma quanto è importante usare, adoperare, raccogliere il racconto del mondo che questi ragazzi ci danno e che troppo spesso viene rimosso, viene dimenticato, viene sopraffatto dall'informazione ufficiale verso la quale non ho nessun motivo particolare, adesso almeno di critica o di rancore, che però perde qualcosa non facendo parlare questi ragazzi, tra le tante cose che vediamo mandando questi ragazzi in giro per il mondo molto spesso è anche quello sguardo e quell'intelligenza, tramite Giulio Reggeni noi abbiamo scoperto quante intelligenze ci sono per il mondo e quanto è importante nel caso, nel mio caso di una radio, ma penso per i giornali, per l'informazione, per l'editoria, per il mondo della cultura, raccogliere, conservare, tenere come qualcosa di prezioso quello sguardo, questo ha coinvolto in pieno l'attività dell'associazione Amici di Roberto Morione, Roberto Morione è stato un giornalista importante nella storia della RAI e non solo della RAI, l'associazione ha deciso di ricordare la sua memoria, il suo lavoro con un premio che ogni anno è indirizzato a ragazzi e ragazze, a giovani e giovani, aspiranti, giornalisti o aspiranti raccontatori del mondo che abbiano almeno meno di 31 anni, quindi è un premio per dei giovani che vuole incoraggiare loro a raccontare il mondo, però vuole soprattutto invitare noi a tenere quello sguardo, a considerare quello sguardo come qualcosa di prezioso, questa è una delle cose importanti che Giulio Reggeni in questo modo doloroso ci ha insegnato e noi vorremmo fare tesoro di quella lezione, vorremmo anche attraverso il premio Roberto Morione valorizzare questa figura e questo sguardo, questa è la ragione per la quale il premio Morione ha incontrato la battaglia per la verità e la giustizia per Giulio Reggeni e quindi è l'occasione di questa iniziativa. A questa iniziativa partecipa la famiglia di Giulio Reggeni alla quale tra poco darò la parola prima però per Alessandra Ballerini che è qui, ci portasse informazioni e comunicazioni importanti e recenti, attuali e contemporanee praticamente che possono anche aiutarci a capire meglio, a portare avanti ancora meglio la battaglia per la verità e la giustizia per Giulio. Buonasera a tutti, poi riparleremo magari alla fine, riprenderò un secondo la parola per farvi il punto sulle indagini, purtroppo abbiamo delle novità proprio delle ultime ore e degli ultimi minuti e mi scuso se continuo a guardare il cellulare. Ieri pomeriggio abbiamo fatto una lunga conferenza telefonica con i nostri colleghi al Cairo che seguono eroicamente tutta la tragedia giudiziaria anche di Giulio e voi sapete che il nostro consulente ha già scontato con 130 giorni di prigione la sua vicinanza alla famiglia e alla nostra ricerca di verità. Ieri in questa conferenza telefonica ci siamo scambiati importanti novità e a seguito di questo durante la sera diciamo nelle nostre chat che abbiamo con i membri delle CRF che è la coalizione per i diritti e per la libertà alla quale appartengono i nostri avvocati mi informavano che la moglie del presidente è stata fatta oggetto di una campagna mediatica pesantissima, la accusavano di essere i media governativi peraltro, la accusavano di essere terrorista poi di fatto perché lì ogni volta che parli male dello stato egiziano ti bollano come terrorista e la sua colpa in realtà è quella di essere la moglie del presidente Lofti, del presidente delle CRF e quindi la moglie della persona che segue Giulio erano molto agitati ieri sera e di colpo nella notte la polizia ha fatto irruzione a casa loro ha arrestato l'intera famiglia quindi il presidente, la moglie e il bambino di tre anni mentre ci stavamo scrivendo sostanzialmente e gli hanno sequestrato il telefono contenente tutte le nostre conversazioni. Dopo qualche ora il marito Lofti che è appunto il presidente e il figlio di tre anni sono stati liberati ma unicamente per il fatto che hanno la doppia cittadinanza svizzera anche oltre che egiziana e quindi è intervenuta l'ambasciata e sono stati liberati. La moglie attualmente nella stanza col procuratore e l'accusa che sta per essere formalizzata è un'accusa di terrorismo e che immaginate cosa comporta. La pena di morta peraltro in Egitto è eseguita e ci sono state anche già delle esecuzioni dall'inizio dell'anno. Questo è come ci stiamo muovendo adesso e lo scenario nel quale noi ci muoviamo costantemente e i nostri colleghi soprattutto che rischiano la vita costantemente perché ogni volta che ci sentiamo mi dicono che sono seguiti. Il sito delle CRF era già stato oscurato ad aprile, scusate a settembre la polizia aveva già fatto irruzione nella loro sede cercando di chiuderlo forzatamente e questa è l'ennesima prova che stanno subendo per essere vicini a Giulio. Ho una domanda che lascio in sospeso e poi magari pensiamo alla risposta alla fine. Voi sapete che il 15 maggio prossimo il nostro procuratore con la Iocco dovrebbe recarsi al Cairo per iniziare l'estrapolazione e poi la visione dei video della metropolitana dove Giulio è scomparso. Ci chiediamo se quello che sta subendo adesso la moglie del presidente dell'associazione che ci tutela ha un qualche legame con quello che dovrebbe avvenire al Cairo tra 15 giorni. Forse non tutti vogliono che arriviamo alla verità, evidentemente. Questo applauso va alla moglie di Lofty. Alessandra Ballerini che è legale della famiglia e forse avete imparato a conoscere anche come in qualche modo volto che la famiglia ha scelto per rapporti con il mondo dell'informazione e della comunicazione aveva questo aggiornamento ovviamente non incoraggiante che pare l'ennesimo anello di una catena di mistificazioni, deviazioni e illusioni purtroppo rispetto a quello che sta accadendo per Giulio. Però è anche, se mi permetto, un anello di una catena di solidarità, di resistenza in qualche caso in questo almeno per chi è in Egitto di eroismo, penso di poter usare questa parola senza enfasi. In fondo, se questa battaglia per la verità e la giustizia di Giulio Reggeni continua, se la rassegnazione non prevale, non prevale non solo in quelli che sono qui, ma nell'opinione pubblica italiana, direi che questo sentimento ha resistito. Non intravedo segni cinici, diciamo, di rassegnazione. In primo luogo dovuto alla straordinaria energia della famiglia di Giulio, alla qualità anche umana dei suoi genitori, perché questo conta molto, ma anche al lavoro collettivo, alla collaborazione di molte persone, alcune sono qui. Giuseppe Giulietti, che in qualche modo è presidente della giuria del Premio Morrione, ma anche presidente della Federazione Nazionale della Stampa, quindi è il legame più evidente con il mondo dell'informazione di Giuliano Foschini, che è un giornalista investigativo, che è proprio il tema, che non solo è a cuore al Premio Morrione, ma è l'unica forma di giornalismo capace di tenere aperte storie come queste, ma ci sono anche persone in sala che vorrei salutare, c'è Luigi Manconi, che è come prima con la Commissione Diritti Umani del Senato, adesso all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale di Uca e coordinatore, sicuramente porterà avanti questa battaglia, c'è Giuseppe Caselli, Evinia Cristellini, molti amici, alcuni li conosco e altri no, naturalmente molti amici, ecco, con Paola, a cui lascerei ora il microfono, Paola Defendi, vorrei appunto rappresentare anche questa... non metto un dito fra moglie e marito, Paola, vuole scendere voi, naturalmente come parlare, ma volevo dire che sanno che possono contare su queste persone, hanno potuto contare in questi mesi su tante persone, tanto affetto, tanta solidarietà, ma anche tanta capacità, tanto coraggio che c'è stato in giro, che noi speriamo sia più forte del cinismo, della violenza, della ferocia, dell'ipocrisia di chi vuole seppellire questa storia e io passo il microfono a Paola, ripetendo sempre il ringraziamento e l'ammirazione e il coraggio e la lucidità con cui è qui anche la disponibilità a parlare di queste cose, a condividere con noi non solo il dolore, che naturalmente possiamo condividere in minimissima parte. Paola, ma anche l'importanza di questa battaglia. Allora, ti accontento, comincio io e dopo passo la parola a Claudio. Buonasera, grazie a tutti. È vero non è facile parlare. Ieri una signora che ho incontrato a Fiumicello mi ha detto, eh ma ho capito che sono le voci di paese, ci sono le voci di città, le voci di paese, mi ha detto, eh sì ma per te è facile parlare. E lui ho detto, guarda, per me era molto facile parlare di pedagogia perché era il mio argomento, ma andare in giro a parlare per tenere accesa, illuminata la verità per Giulio non è così semplice. Comunque io ringrazio tutti. Se siamo qui è merito appunto di una co-costruzione collettiva, ormai si parla di società della conoscenza, i paradigmi della conoscenza parlano di co-costruzione, l'altro giorno Beppe Giulietti a Cerviniano, questa settimana è la terza volta che lo vedo e che lo sento, grazie, lui è il top della scorta mediatica, dopo dirò una cosa sulla scorta mediatica, ha parlato appunto che è importante illuminare insieme, è importante fare delle sinergie e ha detto una cosa, che il termine scorta mediatica che a me sembra l'abbia cognato lui, ma lui ha detto che non ha importanza, è nato da un'idea comune. Quindi le persone che si trovano, che condividono, che scambiano, fanno gruppo, fanno conoscenza. E poi le persone che sono anche umili, modeste, in genere le persone che hanno la vera conoscenza e la cultura, non vanno poi a dire, beh veramente avevo detto prima io, l'ho letto prima io, l'ho trovato prima io. Ecco, lasciando questo, noi siamo qui proprio perché abbiamo incontrato nel nostro percorso ed è una cosa straordinaria, persone presenti ma anche le persone come ad esempio che compongono il collettivo Giulio siamo noi, che sono veramente, io li chiamerei la vera stampa italiana senza offendere, qua nessuno, e dopo c'è il sito anche Verità e Giustizia famoso per i braccialetti, sono quelli che operano ogni giorno, notte e mattina e sera con noi, assieme a tante altre persone. Quindi c'è questa grande costruzione di ricerca della verità. Lascio la parola a Claudio e prima però volevo salutare due loredane di Fiumicello, che una è la bibliotecaria e una è diciamo una collega come lavoro di una volta, ma è una lettrice di Nati per leggere, conoscete il progetto Nati per leggere, loro già ci seguono tantissimo a Fiumicello, oggi erano qui e hanno deciso di venire a farci compagnia come tante altre persone e Giulio non era tanto ormai più a Fiumicello però loredana ritengo che siano delle persone che ha contribuito alla passione dei libri di Giulio. Grazie. Buonasera, volevo ringraziare anch'io un po' tutti i presenti, siamo veramente onorati di essere qui presenti al Premio Morione, nella città di Torino che ci è sempre stata molto vicino, molto solidale. Abbiamo molti amici qui in città, quindi grazie a tutti per il nostro sostegno e naturalmente grazie a tutte le persone che ci hanno seguito lungo tutto il nostro percorso e in particolare grazie a Alessandra Ballerini senza la quale non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Giulio si sarebbe trovato molto bene in questo ambiente. Lui amava molto la cultura, in particolare la ricercava nei libri, uno dei motivi per cui si era trasferito a studiare a Cambridge perché lì c'è una biblioteca tra le più fornite al mondo e quindi poteva accedere alle fonti originali, quindi andare alla ricerca proprio delle origini della conoscenza, della documentazione sugli argomenti che lo interessavano. Lui aveva conosciuto e è andato personalmente a parlare con Javier Cercas che era qui ieri a fare l'introduzione perché si interessava degli stessi argomenti ed era particolarmente sensibile alla questione dei diritti umani. Quindi Giulio è come se fosse qui con noi oggi e partecipa a questo incontro dandoci un po' la direzione in cui muoverci. Diciamo che la nostra ricerca di verità è un po' anche per mantenere vivo sia la nostra volontà di trovare naturalmente verità e giustizia ma anche per mantenere viva l'immagine di Giulio e dei suoi valori che penso un po' tutti abbiano riconosciuto essere i valori fondamentali della nostra civiltà, convivenza sociale e sviluppo futuro per quanto possiamo auspicarci positiva. Quindi diciamo il discorso che ci dà anche forza è naturalmente questo impegno che ci siamo dati per sostenere questi valori, questi principi di Giulio. Come diceva Alessandra ci sono degli sviluppi, noi abbiamo detto già altre volte facciamo dei piccoli passi, strappiamo dei brandelli di verità come diceva Henry De Luca e ci costa fatica e qualche volta ci sentiamo di fare un paio di passi in avanti e subito dopo molti passi indietro perché i vari depistaggi, le varie situazioni in cui si trovano i nostri legali che ci sostengono dal Cairo comportano delle situazioni che non ci fanno ben sperare a volte e poi la situazione magari si sviluppa e riusciamo a strappare un altro piccolo brandello di verità. Quindi diciamo in tutto questo noi vi ringraziamo per quanto potete sostenerci, aiutarci e dare un piccolo sostegno. E' molto importante per noi. Grazie. Lo so, perché prima ho parlato perché ho detto tu. Ecco, quello che ho detto prima era istintivo, adesso dirò dei punti che così avevamo preparato e cose con cui sono venuta. E tra l'altro chi ci ha visto arrivare ci aveva visto arrivare un po' scapigliati e ha capito perché. E niente, il mio pensiero va alla moglie del nostro legale Lofti, appunto. Spero tutto bene. E il fatto che comunque, parlo da donna, abbiano preso una donna e sappiamo, fanno male a tutti, però sappiamo alle donne cosa possono fare. Questo mi inquieta molto. Ecco, quindi ho questa cosa dentro di me. Questa inquietudine, un'inquietudine che direi la associerei a un'inquietudine che abbiamo in questi giorni e oggi è riemersa perché se succede questo vuol dire che non siamo tanto lontani della verità e quindi però a volte la verità può essere pericolosa per chi la cerca. Ecco, quindi chi oggi ci ha visto e accolto visto la nostra faccia probabilmente avevamo l'espressione dell'inquietudine in primis adesso però per la signora che sta al Cairo. Questo è una cosa. Poi siamo in un ambiente di giornalismo, giusto? Se non sbaglio. Io volevo fare alcune riflessioni sul discorso della stampa in base alla nostra esperienza. L'abbiamo già fatto in altri luoghi. Ormai certe cose sono anche già state ripetute. Però volevo riprendere questo concetto, sempre in base alla nostra esperienza. che so che insomma è anche piaciuto il distinguere stampa buona da stampa cattiva. È un po' così da bambini, no? Bene, male, bianco e nero. Diciamo che la stampa buona è la stampa che ci accompagna, la stampa che fa scorta mediatica, che illumina. Dopo vi darò anche delle idee, caso mai. Ed è la stampa che prima di scrivere una cosa, visto che con tutte le tecnologie che abbiamo, Whatsapp, Messenger, la posta, il telefono e avanti, può magari contattare il nostro legale. Perché c'è stato un tempo fa, un anno fa, noi abbiamo perso un contatto di una persona perché una giornalista ha scritto il nome su un settimanale. E quindi un anno di lavoro, il nostro personale di famiglia per tenere quel canale aperto è stato scritto su questo settimanale e dopodiché noi abbiamo perso i contatti con quella persona che era molto importante. Poi la giornalista avrà avuto due giorni di gloria ed è finita. Questa è la stampa cattiva. Qui parliamo di giornalismo investigativo. Il giornalismo deve essere sempre serio. Il giornalismo investigativo deve capire che se sbaglia una volta rovina le indagini delle persone. Questo non solo per noi, noi però lo proviamo. E quindi quella non è la stampa buona. Poi oggi ho sentito per un Tg della nostra regione, me l'ha mandato una delle mie, diciamo, amiche, dove un giornalista molto famoso, premiato, considerato giornalista investigativo, che anche rischia, è tutto il mio rispetto per questo, si è espresso sembrando il massimo esperto del caso Regeni, sapete parola che non mi piace, direi storia, giuglio, vicenda, tragedia, sembrava che avesse risolto tutto lui e soprattutto, è un lui questo, e soprattutto essendo un grande giornalista investigativo ha detto sì, mi pare che sia stato ucciso al Cairo riferendosi a Giulio. Allora, un grande giornalista investigativo oggi come oggi non può permettersi di dire mi pare che sia stato ucciso al Cairo. Questo è un esempio di cattiva stampa, e vi sto dicendo dei nomi molto importanti. Bene, poi andiamo alla scorta mediatica. Io ringrazio la scorta mediatica, ma in particolar modo devo ringraziare Beppe Giulietti, che è il simbolo della scorta mediatica. Ma scorta mediatica, abbiamo detto tante volte, e non solo noi, scorta mediatica è anche chi fa un like su il nostro Facebook, un evento, tante cose, quello che illumina la nostra ricerca di verità. Beppe Giulietti è scorta mediatica nel senso anche fisico, perché già per il suo lavoro, già per il suo impegno, per quello che abbiamo potuto conoscere in questi due anni, anzi 27 mesi abbondanti, e proprio fa scorta mediatica fisica, va di qua, va di là, non solo per illuminare la tragedia di Giulio, ma per illuminare tantissime tragedie che ha e ha avuto l'Italia. E le mette in sinergia, che come abbiamo detto l'altra sera col collegamento con Cinesi, quando c'era il quarantesimo di Beppino Impastato, bisogna che ogni tragedia, la sua identità, non è giusto creare somiglianze a tutti i costi. Ci possono essere, però è importante, abbiamo visto, per la verità e la giustizia di tutti, che ogni tragedia mantenga la sua identità. Poi un altro discorso è fare sinergia. Questo sì, questa è la forza. E quindi, dico alla scorta mediatica, se noi riusciremo a arrivare la verità per Giulio, apriamo una strada per tante altre storie. perché, e questo è di Giulio, dobbiamo ribaltare una certa mentalità, un certo modo di essere, di procedere e di non dire. Perché parlo adesso verso gli accademici, molti sono scorta mediatica per noi, accademici, intellettuali, che ringrazio, ma io mi sono chiesta dove erano prima di Giulio. Dov'erano? rinchiusi in qualche cenacolo a discutere sull'Egitto, sui diritti, sulla tortura, perché l'oggetto di tutto questo è la parola tortura. Dov'erano? Adesso stanno saltando fuori un sacco di convegni, col titolo il caso Giulio Reggeni. Allora, intanto via caso. E mi dicano prima dov'erano. Perché se fanno i convegni, perché non sanno di che cosa parlare, vengono a casa mia e gli do io tanti argomenti. Su questo sono durissima, sapete? Ancora un punto. Ecco, la scorta mediatica quindi può essere molto indipendente. invito le persone che fanno parte della scorta mediatica a essere veramente indipendenti ad andare avanti, senza paura. E nello stesso tempo, la scorta mediatica però è importante che sia costante. Chi è qua è costante. Non è, adesso l'Alessandra ha detto una cosa, la rilanciamo e domani basta. No, scorta mediatica è essere goccia dopo goccia. È una questione di metodo. Sempre ce lo insegna Giulio. E poi un'altra cosa che deriva sempre dalla co-costruzione con chi ci segue. E allora, noi e soprattutto anche la pagina Facebook, Giulio siamo noi, siamo diventati ormai degli esperti di geopolitica. So che qualcuno, forse, nei palazzi avrà anche riso. Questa signora dice, noi siamo esperti di geopolitica. Ma seguire la strada per andare verso la verità per Giulio, come diciamo sempre per tutti i Giulio e le Giulie di Gitto, significa aver sempre davanti la mappa di tutto il mondo. È così. Quello vende armi a quell'altro, e quello tira fuori il petrolio di là, quell'altro tira fuori il gas di là, dall'altra parte vanno a vendere le lambrette, e il turismo dall'altra parte, e il convegno da un'altra. Quindi è una mappa che si sta creando, che noi abbiamo nella nostra testa e che anche ci stiamo socializzando. Quindi una proposta. E poi sapete, si dice che, non mi viene la parola, comunque che guardando un particolare poi si vede tutto. C'è una parola specifica ed è che adesso non mi viene. Quindi una proposta potrebbe essere, se volete veramente fare scorta mediatica, creare su pagine Facebook, all'interno appunto di chi fa i convegni, sui quotidiani, sui settimanali, e in altri luoghi, una bella bacheca. Osservatorio Egitto. Se voi, basta una settimana, fate Osservatorio Egitto, vedete tante cose. Per adesso passano tanto a casa nostra. e nella casa di Giulio siamo noi che saluto. Noi vediamo tante cose. Perché oggi poi con le comunicazioni, sapete, è molto semplice. Ecco, volevo dirvi questo. Grazie. Io devo dire che noi ringraziamo Paola non solo appunto per la presenza al corale, ma anche per la lezione. Paola è una maestra, un'insegnante, e non si smette di essere insegnanti. Ci ha detto delle cose importanti che riguardano il lavoro, sì, il lavoro di chi, ma il lavoro di tutti, dell'opinione pubblica, perché ormai le categorie tra creatori della notizia, quelli che le fanno circolare, la cambiano, la deformano, anche, sono cadute nel bene e nel male. Quindi c'è un potere di comunicazione che è nelle mani di tutti. E ci ha detto una cosa molto importante, quella della resistenza, della non casualità, della futilità, diciamo, delle cose che raccontiamo. E guardate che questo è molto importante, perché anche con le migliori intenzioni, spesso l'informazione, con le sue discontinuità, emana questa sensazione appunto di futilità, di strumentalità, ma soprattutto quello che ci ha detto sul senso di responsabilità. Ha parlato di casi drammatici, di contatti bruciati, di persone esposte, di superficialità anche di queste ore, credo di aver capito che si riferisce a un'iniziativa che è in corso in questi giorni a Udine, quindi è un giornalista che lì viene premiato, ma non è il caso di singoli o di nomi, del resto non li ha fatti Paola, non li farò io, ma è il caso invece di richiamare insieme al coraggio dell'investigazione il senso della responsabilità. Se posso permettermi, vorrei ricordare, a chi non lo conosceva, che questo era proprio il cuore dell'insegnamento che Roberto Morione dava a persone più giovani, come me e altri che ora sono nell'associazione, Andrea Vinello che è qua, Francesco Cavalli, naturalmente Mara, Mara Filippi, Morione, Alessandra Tarquini. L'insegnamento era quello, l'invito era quello al coraggio, era anche un invito, insomma, forte, insomma, non educato a essere coraggiosi, a usare nel dare le notizie, nel cercare le notizie, nello sfidare le verità ufficiali, ma sempre con il senso di responsabilità. Mai abbandonare quel senso di responsabilità che ti fa ritenere responsabile anche delle conseguenze di quello che scrivi, non solo della qualità, della verità o del valore di quello che scrivi, ma anche delle conseguenze. E questo è davvero una cosa che lega moltissimo, Paola, le parole che hai detto a quello che è lo spirito dell'associazione Roberto Morione e lo spirito del lavoro di Roberto Morione e dei ragazzi che noi premiamo ogni anno. Ora, Alessandra Ballerini prima ha detto delle cose legate a un'attualità recente, insomma, qualcosa dell'ultima ora che andava detto. Noi abbiamo bisogno qui, Alessandra, anche per le persone che sono qui, ripeto, senza distinzione tra chi fa l'informazione e chi la fa circolare in tanti modi, di riassumere la vicenda a questo punto. Sull'orlo, vi accennavi te, a un evento, io ho sempre, in questa storia come in altre, paura anche nella comunicazione a usare parole che instillino speranze eccessive, ma noi siamo alla vigilia di un evento, di un incontro tra gli organi di giustizia italiana e quegli egiziani, il 15 se non sbaglio, al Cairo, al quale sono legate delle speranze, ti ripeto, so che usare queste parole tanto è fitta di deviazioni, mistificazioni, falsificazioni, questa strada può sembrare ingenuo, però affidavamo a questo incontro la possibilità di far fare un passo avanti, in particolare di venire in possesso di queste famose ultime immagini, quelle della metropolitana del Cairo, sono le ultime immagini nelle quali probabilmente troveremmo tracce della vita di Giulio e forse speravamo di trovare anche tracce di quello che è accaduto dopo, vorrei che quindi tu qui riassumessi per tutti la situazione quale è alla vigilia di questo evento. Sì, poi vi do un ulteriore aggiornamento su Amalfa T, così si chiama questa donna. Allora, siamo stati qualche giorno fa in Procura a Roma, dove abbiamo avuto conferma di quanto era stato comunicato col comunicato ufficiale congiunto, come ormai usano fare le due procure, e cioè un impegno della Procura egiziana a far ospitare in qualche modo il nostro procuratore Colaiocco e dei nostri tecnici, mentre i tecnici di una ditta russa cercano di estrapolare i filmati diciamo dall'hard disk della videosorveglianza alla metropolitana. Sono passati tanti tanti mesi e da subito ci avevano detto guardate che incautamente non li abbiamo prelevati subito questi hard disk, anche lì singolare, anche perché era la notte del 25 gennaio che non è, come dire, una notte come tante e dovevano essere immediatamente prelevati, viene sequestrato un cittadino italiano e la notizia del sequestro si sapeva mezz'ora dopo il ritardo di Giulio all'appuntamento, quindi si poteva intervenire subito ovviamente. Adesso vediamo se questa sovrascrizione ha portato danni irreparabili o se si possono estrapolare comunque dei dati non indicizzati, cioè quindi non ci sarà la data, certo è che se troviamo un fotogramma di Giulio accanto a una divisa della National Security nella fermata di Docchi qualcosa ci dice, ecco. Quello che, appunto, come diceva Paola e come ci siamo dette stamattina alla luce di queste terrificanti nuove notizie evidentemente siamo vicini alla verità, no? Quindi da un lato formalmente riprende la cooperazione, no? Riprende se mai iniziata questa cooperazione formalmente e dal lato dobbiamo vedere dei risultati però perché se no e soprattutto questa cooperazione non può costare la vita a qualcuno, non può costare la libertà personale di qualcuno perché non può funzionare sempre così, no? E già voi vi ricorderete il primo depistaggio peraltro all'indomani dell'incontro col senatore Manconi alla Commissione di Diritti Umani dove avevamo detto, no? Oddio, non vorremmo mai che ci consegnassero cinque poliziotti morti e ci dicessero che sono i colpevoli. Ci hanno consegnato cinque rapinatori morti uccisi a sangue freddo, no? Peraltro, ironia della sorta perché c'è del grottesco sempre in tutto questo, ci dicono che quei poliziotti si travestivano cioè quei rapinatori si travestivano da poliziotti per fare le rapine, li ammazzano a sangue freddo e ora lo possiamo dire con certezza c'è anche un fascicolo aperto per l'omicidio di queste cinque persone e dicono che quelle cinque persone sono quelli che avrebbero sequestrato, torturato e ucciso Giulio, no? Non stava ovviamente né in cielo né in terra ma nel fare questo depistaggio compiono ovviamente degli errori, no? Perché fanno ritrovare poi gli effetti personali di Giulio a casa del parente di uno di questi e chi ce li mette dentro è un ufficiale della National Security e quindi se li ha quei documenti in qualche modo li ha presi noi abbiamo i nove nomi di persone che sono direttamente implicate nel sequestro nell'uccisione e nell'omicidio di Giulio questi nove nomi sono stati rappresentati già alla procura del Cairo al generale Sadek perché il procuratore capo è un generale e hanno detto che ci riflettevano su questo è successo a dicembre nell'ultimo colloquio telefonico che c'è stato appunto alla vigilia di questo incontro che ci sarà il 15 è stato detto bene abbiamo riflettuto su questi nove nomi e su come siete arrivati a questi nove nomi li rinterrogheremo perché queste nove persone sono già state interrogate sono tutti alti ufficiali diciamo delle varie tante forze di polizia egiziane li interrogheremo erano già stati interrogati e erano tutti non sono un ricordo oppure delle bugie plateali è possibile che il fatto che vengano interrogati anche qui non piaccia a qualcuno e quindi la vendetta si è manifestata subito questa donna rischia mi stanno scrivendo adesso rischia o l'ergastolo o la pena di morte e non la stanno ovviamente rilasciando io vi chiedo di fare tutto quello che è in vostro potere credo che ora con Giulio stiamo noi lanceremo degli hashtag e per chiedere immediatamente la libertà è evidentemente è una questione politica questa come tutto quello che riguarda purtroppo molto della nostra vita ma in particolare la tragedia di Giulio purtroppo non è una questione giudiziaria perché non c'è un accordo di collaborazione giudiziaria tra Italia e Egitto quindi quei famosi brandelli di verità ci vengono perché voi mettete il bracciale giallo la spilla gialla perché c'è Giulio siamo noi che ci sta vicino perché voi ci state vicino e in qualche modo la politica sente questa pressione e agisce di conseguenza e questo in qualche modo però è un potere immenso che abbiamo per spostare le cose mi ha appena scritto il nostro consulente dicendomi abbiamo bisogno di molta più pressione diamogli molta più pressione quella di cui hanno bisogno finisco finirò con le parole del nostro consulente Abdallah che ci aveva mandato in un presente incontro peraltro esattamente eroe la parola giusta per definire queste persone perché difendere i diritti umani qua è faticoso ma voglio dire è relativamente rischioso difendere i diritti umani in Egitto vuol dire rischiare la vita non solo la propria ma quella della propria moglie e dei propri bambini tutti i giorni e potrebbero lasciare il paese queste persone sono grandi professionisti magari hanno anche la doppia cittadinanza restano lì perché amano il loro paese e forse questo poi dovrebbe capirlo in qualche modo il governo egiziano le persone che restano lì non sono terroristi non attentano alla sicurezza del paese sono gli unici che hanno a cuore veramente il cuore di quel paese il cuore di un paese sono i diritti umani quindi vi ricordo soltanto due dati tre quattro persone al giorno fanno la fine di giulio ogni giorno scompaiono nel nulla delle persone che scompaiono ogni giorno in Egitto il 35% non ricompare più il 5% compare cadavere il resto sta in attesa di un giudizio come Shao Kahn che è un giornalista che è in attesa di giudizio da anni ormai da quasi 5 anni e che tra l'altro Beppe Giulietti fa da scorta mediatica anche per lui prima di dare la parola ad Abdallah con le sue parole dico anche un'altra cosa che questa questa donna Amalfati vi diranno leggerete una parola che secondo me è bellissima e che usano in senso spregiativo ero un attivista diranno è un attivista lo dicono spesso anche di noi avvocati dei diritti umani come se fosse un difetto è una bella parola essere attivisti vuol dire esercitare la cultura dei diritti umani col corpo anche se serve e in Egitto questo lo fanno a rischio della vita in realtà Amalfati è una mamma è una moglie della moglie del presidente di ha commesso forse un errore dal punto di vista egiziano pare che abbia su Facebook espresso la propria opinione contro la violenza che subiscono le donne da parte delle forze dell'ordine egiziano questo ci preoccupa ancora di più una donna che poi finisce in quella situazione lascio la parola ad Abdallah che è il mio personale eroe per eccellenza la commissione egiziana per i diritti e libertà le CRF di cui faccio parte ha documentato 1300 casi di sparizione forzata in Egitto negli ultimi anni e questo numero rappresenta solo i casi che la CRF è in grado di documentare ma sicuramente i numeri reali sono molto più alti di questi in Egitto potresti essere imprigionato per aver cercato tuo figlio scomparso l'avvocato Hibram è ora in prigione accusato di parlare all'ONU della vicenda di suo figlio ma Hibram non è un caso isolato altri difensori dei diritti umani sono stati incarcerati perché hanno osato sfidare il governo e fornire assistenza legale alle vittime in Egitto in Egitto si ha il coraggio di difendere le vittime se è una minaccia costante di diventare tu stesso una vittima signore e signori nessuna parola può descrivere la realtà di essere in Egitto al giorno d'oggi ma la speranza risiede nei coraggiosi difensori dei diritti umani che continuano a operare senza paura in queste condizioni dimostrando il loro impegno per i diritti umani e sperando che l'umanità venga rispettata un giorno anche nella loro patria non lasciamoli soli grazie Alessandra Ballerini sì sulla situazione egiziana qualche giorno fa Amnesty International ha rilasciato un rapporto uno degli ultimi rapporti il cui titolo è piuttosto esplicito fare a pezzi l'umanità è un rapporto che documenta la continua violazione di diritti elementari del diritto alla vita sono 60.000 circa detenuti politici in Egitto questi sono i pochi calcoli che riusciamo a fare ha ragione Paola a rimproverarci diciamo l'episodicità non la saltuarietà magari a volte anche la strumentalità con cui ci si occupa di queste cose la tua la tua domanda dove eravate prima ferisce chi lavora in questo campo e che dimentica tante parti del mondo come ha dimenticato l'Egitto però posso dire che la vicenda di Giulio almeno ci impedisce di chiudere gli occhi su quello che accade in Egitto è un paese che sorvegliamo dobbiamo sorvegliare in maniera particolare e dovremmo farlo anche a partire dal fatto che è un paese col quale come è noto e senza ripetere polemiche recenti anche molto accese abbiamo rapporti molto stretti rapporti commerciali rapporti diplomatici che non so se sono davvero inevitabili come il governo italiano ci ha sostenuto di recente ma abbiamo rapporti di vario tipo anche rapporti culturali ci sono stati autori egiziani qui nelle sale del Salone Internazionale di Britorino non è un paese lontano e dimenticato è un paese che tra l'altro ha il cuore e l'origine stessa della nostra civiltà un paese dal quale non possiamo sentirci lontani e devo dire che queste cose che ci sta raccontando ora Alessandra sono credo adesso cominciamo a parlarne anche con Giuliano Foschini giornalista di Repubblica uno degli inviati che con più determinazione ha seguito piste diverse in questi mesi Giuliano quindi non so con quale attualmente con quale concretezza e speranza da parte tua però è un giornalista che come altri gli occhi sull'Egitto ci ha impedito di chiuderli queste storie che Alessandra stava accennando le conosci queste figure di giornalisti e di attivisti è interessante che la parola attivista sia Alessandra è interessante che sia usata spregiativamente perché dal punto di vista del potere ci ho pensato mentre lo dicevi è davvero un difetto avere di fronte degli attivisti cioè delle persone attive i poteri tutti i poteri si basano sulla passività sulla rassegnazione trovare persone determinate e quindi attive è dal punto di vista del potere un difetto della società naturalmente per noi è la più alta qualità con la quale si possono esercitare le professioni tutte ripeto e tutti i nostri ruoli un'opinione pubblica attiva per esempio è una delle grandi forze democratiche presenti allora Giuliano intanto sì se vuoi puoi accompagnare le ultime cose che Alessandra ci diceva a partire dalla tua esperienza e naturalmente anche ricostruire a partire dall'esperienza tua e di alcuni tuoi colleghi l'importanza in questo caso di una cosa che noi chiamiamo anche in omaggio al modo in cui la chiamava Roberto Morino è giornalismo investigativo ma insomma una particolare qualità o attività diciamo del giornalismo che consente di tenere aperte storie come queste perché guardate che questa storia era destinata a finire noi lo sappiamo che se c'era il silenzio di un'opinione pubblica rassegnata questa storia finiva nel lutto privato della famiglia di Giulio c'era la vostra battaglia lo so che Paola non la faceva finire comunque ho capito cosa dici Paola però sarebbe stata una cosa diversa se non ci fosse Giuliano Buonasera grazie io Lotfi lo conosco l'ho incontrato più volte al Cairo sempre in un caffè straordinario molto fumoso che era le spalle che si trova alle spalle delle ambasciate gli piaceva e ormai ci piace andare lì l'ultima volta che ci siamo visti c'erano quattro persone attorno a noi due da una parte due dall'altro che ci hanno accompagnato lungo tutta la giornata e io e Lotfi gli abbiamo offerto il caffè erano chiaramente dei poliziotti che non ci hanno lasciato mai ostentavano anche la loro presenza allora il giornalismo la domanda è complessa sul giornalismo e su Giulio io penso due cose penso che sia per noi un caso di particolare studio quello che è successo sulla morte il sequestro e la tortura di Giulio Ruggini nel giornalismo italiano perché io penso che sia stato un esempio virtuoso hai ragione quando dici che loro sono straordinari sono molto di più di quanto voi possiate immaginare Alessandra Paola Claudio e quindi per noi per tutti quanti è stato più facile però il giornalismo ha tenuto la barra dritta e fare in modo che il giornalismo la barra dritta del giornalismo ha imposto la politica anche soprattutto nel primo momento di tenere la barra dritta non si poteva sbagliare non ci si poteva dimenticare e questo è stato molto importante poi per il resto noi penso Repubblica ha fatto una scelta di giornalismo partigiano cioè ha deciso proprio da che parte stare di questo ne sono molto orgoglioso io e Carlo Bonini abbiamo seguito questa storia dall'inizio ma tutti quanti abbiamo fatto null'altro che più nel nostro mestiere i fatti c'era Peppe Davanzo che quando parlava di giornalismo investigativo diceva il giornalismo non è altro che i fatti chiamano forza incoercibile e soprattutto i fatti al riparo dal potere e quindi per secondo me per raccontare la storia il sequestro la tortura e l'assassinio di Giulio è necessario stare ai fatti e i fatti sono molto chiari su alcuni punti Giulio è stato sequestrato torturato e ammazzato da pezzi dell'apparatore del governo egiziano lo stesso governo egiziano che ha in questo periodo in questi due anni in qualsiasi maniera nel maniere Alessandra diceva una parola giusta grottesca incredibile provato a depistare quello che è accaduto hanno ammazzato cinque innocenti hanno provato in tutte le maniere a infangare la memoria di Giulio dalle maniere più incredibili tipo paventando il delitto omisessuale perché Giulio aveva la maglietta rosa io me lo ricordo ero nei giorni successivi e tra l'altro non ce l'aveva dicevano che piuttosto che esibendo i documenti che loro stesso avevano portato all'interno della casa di uno di questi cinque innocenti quindi un italiano con che cosa va in giro al Cairo con un borsello dell'Italia e con dei trementi occhiali da sole e dei bianchi e rossi quindi diciamo arrivando davvero al paradosso piuttosto che prendendo in giro le nostre istituzioni continuando a raccontare delle bugie lo fanno tuttora l'inchiesta della procura di Roma sull'omicidio Giulio Reggeni cioè tutto quello che noi sappiamo lo dobbiamo alla forza della determinazione della famiglia allo straordinario lavoro della procura di Roma che per la prima volta da quando io mi ricordo ha fatto un'indagine per sottrazione cioè non avendo noi la possibilità di sapere esattamente che questo è successo hanno cominciato a capire che cosa era finto cioè quello che arrivava dall'Egitto tutto ciò che non era vero loro lo sottraevano e quindi era falso per esempio che l'omicidio di Giulio fosse nato in ambienti che non erano unicamente ambienti diciamo appunto statali la prima cosa che avevano detto io ero al Cairo quei giorni era stata ah ma aveva strane frequentazioni con la droga e non sapevano ed è lì poi l'hanno imparato che Giulio era il migliore difensore di se stesso e quindi hanno beccato l'unico ragazzo di 30 anni probabilmente non si era fatto manco una canna perché dall'analisi del capello durante l'autopsia Giulio era pulito quindi tutte le menzogne che hanno provato a costruire si sono infrante davanti a Giulio a quello che era e mi fa piacere parlarne qui in mezzo ai libri perché Giulio è tecnicamente un morto sul lavoro Giulio Reggeni è stato torturato e ammazzato perché faceva il suo mestiere il ricercatore universitario niente di più e niente di meno e se vogliamo anche quella cucciutaggine cioè il difendere quello che stava facendo è proprio degli accademici ecco perché mi dispiace poi quello che è successo dopo con l'accademia in Europa anche in Italia perché Giulio era esattamente il contrario era il contrario della corporazione tornando alla domanda il giornalismo secondo me ripeto io penso che il caso Reggeni sia da questo punto di vista fermo e stando poi io capisco storture un esempio virtuoso che in questo momento il nostro paese sta offrendo il giornalismo devono essere fatti fatti proprio puri fatti che devono essere anche scomodi nei confronti del potere parlo anche dell'Italia il 15 agosto l'ambasciatore italiano era ritornato al Cairo con una motivazione che è scandalosa perché poi la politica può fare le sue scelte ma la motivazione è scandalosa perché la motivazione non era quella per cui era necessario riaprendere un rapporto con l'Egitto perché c'era l'immigrazione ma la motivazione era che ci sono stati fatti dei passi avanti nell'indagine era una bugia ecco sulla vicenda di Giulio e su questo dobbiamo essere tutti quanti noi completamente intransigenti non si possono dire le bugie perché la vicenda di Giulio il sequestro la morte la tortura di Giulio non sono una questione che riguardano il dolore di una famiglia ma riguardano la democrazia di un paese è una questione che riguarda tutti quanti noi non è un luogo comune non è un modo di dire perché Giulio Reggiani è morto perché faceva il ricercatore universitario l'università europea e l'Unione Europea continua a stare zitta questo è uno scandalo è una vergogna è una vergogna faceva il ricercatore era un ragazzo italiano era una mente italiana è successo a lui e poteva succedere ai migliori di noi e quindi non è una vicenda che riguarda la famiglia Reggiani ma una vicenda che riguarda il nostro paese e dunque io penso e spero che l'informazione di questo paese continui a fare quello che sostanzialmente sta facendo i fatti protetti dal potere grazie grazie io penso che sì sì diciamo che è anche una storia dalla quale professionalmente bisognerà imparare poi col tempo perché non useremo più la parola caso non è un caso è effettivamente una storia è un dramma che allora Giuseppe Giulietti diciamo la sua figura riassume diciamo la funzione di Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e di quella della giuria del premio Memorione quella che assegna ogni anno il premio tra l'altro il premio era assegnato a Torino questa è un'altra ragione per la quale è particolarmente importante essere qui cioè a fine settembre per Italia che si svolge alla fine settembre presenteremo i lavori di ricerca due secondi sul premio Memorione la tecnicalità che è interessante perché il premio Memorione raccoglie delle proposte che dei ragazzi fanno di ricerca di giornalismo web o televisivo le seleziona e le premia intanto affidando ad alcuni di essi dei tutor per cui ci sono già dei vincitori cioè dei ragazzi che in questo momento stanno lavorando per realizzare i progetti di inchiesta che hanno presentato insieme a dei tutor cioè dei professionisti sia del giornalismo che della della vocatura perché devono avere garanzie giuridiche per riuscire a fare queste ricerche sono molto spesso inchieste molto coraggiose hanno già svelato senza entrare adesso a vantare i meriti del premio ma hanno già svelato traffici internazionali o nazionali che sono poi diventati di attenzione per la grande che è la grande stampa a fine settembre presenteremo le ricerche nel corso del lavoro diciamo e a fine ottobre dal 25 al 27 ottobre qui a Torino si terrà la cerimonia finale quindi ci saranno i giorni premiati e tra l'altro è straordinario anche Paola vedere questi ragazzi che vengono anche qui da molti parti del mondo fanno i giornalisti ma spesso sono lì per altre ragioni mi ricordo due ragazze che erano ad Amsterdam per altre ragioni hanno scoperto con il loro lavoro il traffico internazionale con Giancarlo Caselli siamo rimasti sorpresi dalla qualità di quel lavoro ma anche dalla intensità di quel traffico dalla criminalità del traffico che due ragazze così con la loro ingenuità sembrava avevano portato alla luce fino a ottobre li incontreremo e li incontrerete qui a Torino in genere appunto al di là dell'occasione del premio una manifestazione interessante perché ci fa vedere come lavorano tanti ragazzi dicevo che Giuseppe Giulietti è presidente della Giulia del Premio è presidente della versione della stampa è però la persona che avete sentito ha garantito con il suo lavoro è molto intensa la capacità di lavoro che ha Peppe Giulietti diciamo che ha una capacità di pressione usiamo un eufemismo Paola molto forte diciamo su chi è nella sua agenda diciamo che si trovesse nella sua agenda soprattutto attraverso questa idea della scorta mediatica su cui se hai voglia di dire due parole perché è una forma che noi usiamo come una specie di cliché di categoria professionale ma è una cosa che può rappresentare in molti casi non solo nel caso di Giuseppe ma nel caso di tanti giornalisti che in Italia fanno con coraggio e correndo rischi pesanti il loro lavoro è un tentativo di offrire una forma di difesa collettiva quella specie di co-costruzione che è una parola pedagogica che usa Paola che è qualcosa che dovremmo applicare in più campi del nostro lavoro anche per combattere le tendenze individualistiche e la debolezza che portano con sé per i tifosi del Torino sono come Ciccio Graziani il generoso Graziani sto scherzando io e Marino Sinibaldi era un grande giocatore del Torino generoso ma sbagliava molte reti spesso e io sono identificato scherzo mi attribuiscono cose che non ho fatto delle quali non ho merito però fa piacere perché spesso prendo insulti per cose che non ho fatto quindi li pareggio siete stati tutti molto gentili voglio dire due o tre cose uno l'hai detto tu Paola molto bene credo che per un'altra ragione Claudio lo diceva sarebbe stato molto contento di essere in questo luogo Giulio e non solo Giulio perché il Salone del Libro è un luogo che per sua natura c'è la libera circolazione della parola e delle opinioni e le parole e le opinioni circolano dove non ci sono muri perché i muri sono qualcosa che impediscono la circolazione e l'incontro tra le diversità se ho capito qualcosa da voi di Giulio e del suo ambiente era la estrema curiosità per ogni forma di diversità la voglia di comprendere di non fermarsi alle banalità o alle omologazioni e questo mi pare che sia il tratto più importante c'è una forte rivendicazione del diritto alla conoscenza qualcuno la mia corporazione lo dico perché non dovendo neanche candidarmi non perdo neanche voti diciamo talvolta tende a identificare con se stessa la comunicazione io nego questo concetto sono d'accordo con te Giuliano qualcuno all'inizio ha detto Giulio era un giornalista ma che bisogno c'è la cosa fondamentale è che uno abbia voglia curiosità voglia conoscere io non sono mai riuscito a concepire questa professione sulla base di un tesserino non mi interessa penso che la questione più interessante sia quella che mi fa conoscere che ha curiosità poi faccia quello che gli pare non mi interessa niente di tutto il resto ma è questo l'elemento fondamentale allora vedete c'è un legame io lo dico perché molti non conoscono ovviamente Roberto è morto da qualche anno Roberto Morione io ringrazio il mio intervento sarà una serie di grazie dentro i quali c'è un ragionamento io lo ringrazio anche il premio Morone Mara Filippi è lì c'è Alessandra c'è Cavalli c'è Andrea Vianello perché Roberto Morione aveva una caratteristica guarda era un giornalista che non credeva nel fatto che nella velocità non credeva che il problema fosse arrivare primi il problema era dare a un testo un contesto non credeva che il problema fosse twittare l'immagine di un bambino morto sulla spiaggia ma pensava che venisse prima la conoscenza del luogo da dove fuggiva quel bambino perché se io non so da quale guerra da quale terrore da dove sta scappando io ti faccio commuovere ma non ti faccio capire che cosa è accaduto e così se su Giulio io mi limito a dare delle emozioni non ti consento di capire che muore dentro un meccanismo che stritola migliaia di persone questo era Roberto Morione un uomo che aveva nel cuore il giornalismo di inchiesta e guardate che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita anche a Torino perché Morione quando lascia Rai News la direzione va a lavorare a Libera va a lavorare con Donciotti va a lavorare con Giancarlo Caselli cioè scegliere di mettere a disposizione se stesso degli altri l'esatto contrario della cultura dominante della egolatria non mette se stesso non usa gli altri per illuminare se stesso ma si mette a disposizione e attraverso persone così che alcuni di noi scoprono per esempio ho visto anche Giuse Nicolini in questa sala Valerio Cataldi scoprono le periferie più lontane che sono quelle non solo quelle fisiche ma sono talvolta anche quelle spirituali il concetto di periferia è un concetto molto ampio però sapete che sono da stato davvero i protagonisti della scorta posso dirlo io vi ringrazio delle cose dette dai giornalisti ma io molte cose le ho imparate perché nella vita bisogna il grazie non è una cosa che ti leva è una cosa che esalta il noi il grazie non è un atto di buona creanza fa capire una squadra io devo dire che senza Luigi Manconi su molti dei temi di diritti io non avrei capito niente perché Luigi è uno che ci ha insegnato che i diritti li difendi anche per Caino non so se sono chiaro i diritti non li difendi per i tuoi vicini non li difendi per i tuoi amici di partito chiaro? i diritti li difendi per chi prega diversamente da te per chi non prega e per chi ha un altro colore e questo il merito è di Luigi perché in queste iniziative non mi riferisco solo a Giulio lui è un'altra persona che non c'è che è Riccardo Nuri il portavoce di Amnesty che è stato un'altra delle persone che implacabilmente ogni giorno ti segnala pure quello che accade in Mauritania ma guardate che non sono degli strani signori queste persone so come spiegarlo io sono convinto che chi fa queste battaglie sta lavorando per la tua dignità e la tua sicurezza la tua sicurezza non è la quantità di pistole in casa la tua sicurezza è la capacità di dare dignità nei luoghi della sofferenza costruire le condizioni dell'incontro capite? è una cosa molto diversa questi sono agenti della sicurezza lo so parlo per paradossi sono un veneziano e quindi capirete che vengo da una scuola diciamo che si fonda sul paradosso perché forse ci permette di cogliere alcune cose che ci sfuggono allora il grazie prosegue vorrei fare una proposta dopo Alessandra non arrabbiarti vediamo se ho capito bene quello che avete detto il grazie va esteso a coloro che hanno colorato di giallo l'Italia anche qua io sette volte mi sento dire andando in giro immagino quante volte Luigi Manconi e quante volte Riccardo e quante volte Alessandra questa banalità a che servono queste cose a che serve la spilla a che serve il braccialetto vorrebbero farvi sentire persone patetiche di un mondo che non c'è più no no è esattamente il contrario è la capacità di connettere usando il proprio usare in modo intelligente i social usare se stessi il proprio corpo e la propria intelligenza per creare una rete tu puoi decidere sulla rete o la inquiri di bestemmie e di urla contro le differenze o la utilizzi per costruire un circuito che includa i diversi non lasci nessuno solo sta a noi decidere cosa fare sei libero di aggredire o sei libero di includere chi ha fatto questa operazione su Giulio ha fatto un'operazione di grandissima cultura e se posso permettermi ha contagiato l'informazione non c'è chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo si è messo in moto questa è la scorta mediatica si è messo in moto un circuito positivo in cui ragazze ragazzi studenti persone che non conosci giornalisti famosi qui c'è un'altra collega che ha fatto delle inchieste ho visto in fondo Giulia Bosetti c'è un insieme di persone non so chi sia arrivato prima non mi interessa perché il problema è arrivare non è arrivare prima il problema è accompagnarli sino alla fine nella richiesta di verità e giustizia non è una fiammata del primo giorno allora questo simbolo è diventato un simbolo importante posso usare una parola che non è mia è di Claudio Fava il figlio di Pippo Pippo Fava fu ammazzato lui ce l'ha della scorta mediatica è questo quando accade una vicenda in questo caso parliamo di Giulio ma può riguardare tanti altri casi diversi anche i cronisti minacciati non limitatevi a fare la richiesta di intervista ai genitori non inseguite i familiari non inseguiteli a casa per avere la foto o non fatevi fotografare passando per il cimitero magari di questo o di quello ma cercate di fare una cosa diversa di mettervi sulle spalle la loro richiesta guardate è molto diverso tu puoi scegliere di parlare di Paolo Borrometti giornalista minacciato e mostrarlo tutti i giorni tu puoi scegliere di andare a Pachino e fare le inchieste che faceva Paolo Borrometti puoi scegliere di creare un consorzio investigativo per indagare su Daphne Caruana puoi scegliere di indagare su Giulio e metti assieme le migliori intelligenze questo è un giornalismo moderno serio dove è fondato sulle competenze utili agli altri credo che sia questa la scorta mediatica noi abbiamo deciso anzi la famiglia ha deciso e Alessandra e insieme con Manconi con Riccardo il 14 di ogni mese di fare la scorta mediatica di farla sempre ma c'è un giorno è il giorno del ritorno dell'ambasciatore la metto lì la metto lì Alessandra perché dovete si decide assieme non c'è uno che decide per gli altri forse se ho capito qualcosa questa volta il 14 lo dedichiamo a chi è in carcere lo dedichiamo a chi anche ai difensori e a chi in questo momento rischia e diamo il segnale che quella parola verità e giustizia per Giulio include verità e giustizia è la cosa più bella sapete dove mi hanno posso dire io lo so io mi entusiasmo sì lo so dove loro mi hanno conquistato come altre persone perché dal primo giorno hanno detto verità e giustizia per Giulio ma guardate che non so quanti lo avrebbero fatto poi hanno aggiunto verità e giustizia per tutti Giulio e tutte le Giulie guardate che non è così semplice in un paese dove c'è qualche forcaiolo che si preoccupa solo di se stesso e vorrebbe giustiziare i propri avversari dire vogliamo diventare simbolo di chi non conosciamo perché non è e sapete a chi l'ho sentito fare questa cosa da alcune grandi persone l'ho sentito fare a Giovanni Impastato e alla famiglia Impastato al fratello di Giancarlo Siani a una signora che si ripresenterà in tribunale l'8 di giugno e forse rischia l'archiviazione dopo 24 anni e noi dobbiamo fare scorta mediatica anche alla signora Luciana Alpi perché non si può archiviare il caso di Ilaria e il caso di Miran allora io dovevo portarvi anche degli auguri ve li porto li avete sentiti in diretta proprio di Giovanni Impastato perché Giovanni Impastato hanno fatto tanti passi loro dicono i cento passi loro vorrebbero incontrarvi e non per fare memoria assieme perché hanno detto le stesse parole vostre e Giovanni ha detto ma quale memoria io ho costruito una casa per educare la legalità io ho costruito cento passi per ragazzi che non sapevano neanche chi fosse mio figlio cioè voglio che questa cosa diventi un'educazione per il futuro non è una cosa di commemorazione quando sento dire siamo solidari no hai ragione hai ragione siamo solidari con noi stessi non solo con la famiglia Regenio ma con altre famiglie perché se non arrivi a verità e giustizia tu hai disonorato te stesso e devi capire che è un problema tuo di dignità ti metti a disposizione non ti limiti ad abbracciarli certo è cosa bella meglio gli abbracci e faremo una cosa che forse non vi ho comunicato ma che riprende esattamente il concetto di scorta mediatica perché tu prima hai detto ti ringrazio e fatela per gli altri e non dimenticatevi le altre persone il 14 verità e giustizia per Giulio e soprattutto la richiesta di libertà ma voglio dirlo qua a Torino il 17 di maggio facciamo una cosa dice apparentemente ora cosa c'entra con tutto quello che abbiamo detto alla fine lo capirete il 17 di maggio abbiamo chiesto non solo ai giornalisti ma a tante associazioni italiane di fare una cosa molto semplice di andare tutti a Roma di recarci in un bar che sta alla romanina di recarci in un bar che si chiama Roxy e di andare in un bar dove alcuni i casamoni che hanno cinghiato tre stranieri che hanno avuto il coraggio di ribellarsi e di denunciare e di allargare quel concetto hai ragione sì ti rispondo sì perché è un concetto collettivo nato discutendo con persone che oggi non ci sono più per esempio Roberto Morione il santo della volpe e noi quel giorno andremo lì sai per fare che cosa semplicemente questo per fare colazione col baristo rumeno e la signora che è stata cinghiata per portare le telecamere là davanti e dire anche in questo caso voi ci provate bene noi andremo a illuminare i copi dei casamonica fino alla conclusione perché nessuno deve essere lasciato solo grazie per l'onore che mi avete dato invitandoli nessuno deve essere lasciato solo è proprio l'impegno di questa di questa rete che si è creata intorno alla famiglia di Giulio Alessandra c'è qualcosa ancora l'ultimo messaggio che mi è arrivato che poi potrebbe essere quello che magari l'hashtag che lanceremo il 14 che potrebbe essere i difensori dei diritti umani non si toccano e neanche le loro mogli perché è anche piuttosto vigliacco puoi prendersela con le mogli l'ultimo messaggio i due messaggi che sono arrivati che sono commuventi e vigiro il primo è comunque qualunque cosa succede è stato un onore lavorare con voi per la ricerca della verità di Giulio dall'Egitto questo e l'altro che sentite nel carico però di questo messaggio siete voi la nostra speranza ed è rivolto proprio a voi perché ho detto che stavo parlando in pubblico siamo una buona speranza non deludiamoli perché dipendono veramente da noi perché in Egitto le mamme chiedono a Paola e Claudio di portare avanti la loro lotta per i loro figli di cui non sanno più niente e loro non possono parlare quindi dobbiamo essere una buona speranza per loro e questo è un impegno sicuramente grande Paola vuoi salutare Paola Claudio vuole salutare grazie è stato un enore per noi essere qui insieme a voi e a ricevere diciamo questo invito molto molto importante il premio Morione molto significativo per tutti i giovani che si occupano di studiare in modo serio e con molto coraggio si mettono a disposizione per portare avanti diritti umani dove serve veramente indagare e portare avanti questo discorso grazie a tutti e ci vediamo prossimamente due cose una le mamme egiziane quelle che insomma trovano il modo di scriverci mamme che cercano i loro figli o le mamme che hanno avuto i figli torturati ed uccisi non non mettono una spiletta come noi ma le mamme anche i papà hanno l'immagine del loro figlio o della loro figlia e noi possiamo permetterci di avere un simbolo loro no questo è una riflessione anche se appunto a mie amiche ho detto io su certe cose mi sento più vicina a quelle mamme che ahimè alle mamme italiane questo è una riflessione e poi volevo allora Fiumicello in questo periodo oggi è la giornata super di Fiumicello mi sento molto vicina abbiamo una famosa rassegna teatrale nazionale al quale ha parte della scuola teatro della scuola al quale ha partecipato Giulio anche sua sorella ed è una rassegna molto importante quest'anno a ogni chiusura Bruno Lasca l'ex assessore alla cultura grande amico nostro che ci sta assieme ad altre persone aiutando tantissimo legge degli aforismi e ha fatto una raccolta di aforismi sul discorso della giustizia della libertà della libertà di pensiero e l'altra sera quando noi eravamo allo spettacolo dei ragazzi ha letto questi e io questi vi li leggo di Montesquieu un'ingiustizia fatta all'individuo è una minaccia fatta a tutta la società secondo aforisma giustizia ritardata e giustizia negata grazie 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 Paola sono da parole come queste che è nata la nostra civiltà quella che chiamiamo la nostra civiltà giuridica sociale civile anche culturale grazie per aver portato qui anche un pezzo di questa storia e grazie naturalmente sempre molto per il vostro coraggio la vostra determinazione la nostra non mancherà non mancherà il nostro affetto ci terremo informati e vi terremo informati penso che questo posso promettere a nome di chi è qui ma di chi fa questo lavoro e grazie naturalmente a chi è stato fino adesso qui con noi credo sia anche questo un segno di partecipazione e di affetto per la famiglia di Giulio possiamo ringraziare anche la nostra traduttrice per i non udenti ha fatto un grande lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti